C'è solo un modo tuo ad andare incontro, tutto il contrario di incontrarsi, vedi è un gioco di R, che vuoi mai rappresenti questa tua perversione fuori di una probabilità o una topecca, non è facendo il furbo, che diventerai un cretino, mandali via, mandali via, si gioca a noi.